Proviamo a svolgere qualche celere considerazione intorno all'ultima enciclica di Papa Bergoglio, Papa Francesco, l'enciclica Fratelli Tutti, che ha, per così dire, posto alcuni punti interessanti e degni di discussione. Anzitutto, come sempre accade nel pontificato di Bergoglio, possiamo riscontrare serenamente, credo, che anche in questa enciclica non v'è praticamente nulla di teologico e di volto a una discussione dei temi che ci si aspetterebbe pure da un pontefice, con tutta evidenza, temi legati a Cristo, alla trascendenza, al sacro. Non v'è traccia. È una sorta di dissertazione interessante su temi tutti votati alla mondanità, all'immanenza. Non si parla di cielo, ma solo di terra. Non si parla di trascendenza, ma solo di immanenza. Ecco, naturalmente l'enciclica, come era da tendersi, è di fatto una sorta di riproposizione del verbo unico global capitalistico, con attacco all'idea di sovranità nazionale. La sovranità nazionale è pur sempre il luogo del possibile controllo democratico dell'economia, invece la globalizzazione è il luogo del trionfo neocannibalico delle classi dominanti. Bergoglio non ha alcun dubbio da che parte stare, su quale sia il suo posizionamento. Sta con il globalismo ultracapitalistico e non con le sovranità nazionali. Vi è, more solito, un attacco al populismo, cioè in realtà l'odio verso il popolo sofferente. Fin qui nì il novi sub sole. Ecco, Bergoglio non parla mai di trascendenza e se crede nell'idea dell'inferno, sicuramente nell'inferno, come lo pensa Bergoglio, finiscono i populisti, i sovranisti e le classi lavoratrici che non si piegano alla sofferenza e allo sfruttamento. Uno dei punti più importanti però dell'enciclica di Bergoglio riguarda il concetto di proprietà. Ecco, Bergoglio ha detto nella sua enciclica, ha scritto nella sua enciclica, che in sostanza la proprietà privata non è qualcosa di assoluto e di intoccabile, e ha detto che nella storia della Chiesa non lo è mai stato, la proprietà non è intoccabile. Questa teoria è molto interessante, è curioso che Bergoglio dica che nella storia del cristianesimo non è mai stata intoccabile, perché se noi guardiamo alla storia della Chiesa di Roma ci pare davvero difficile riconoscere la validità di questo asserto. Provate ad andare in Vaticano oggi a dire che la proprietà è intoccabile e magari a chiedere di prendere parte ai beni del Vaticano, le guardie svizzere interverranno con ben altri intendimenti. Quindi la frase di Bergoglio sulla proprietà intoccabile sembra, come dire, una butade priva di riscontro nella storia stessa della Chiesa di Roma. Che la proprietà non sia intoccabile in senso assoluto appare evidente, basta considerare la storia dell'umanità, non vale però questo asserto, ci perdonerà il sommo pontefice nella storia della Chiesa di Roma, dove effettivamente la proprietà è intoccabile e anzi l'impossibilità di avere figli era anche volta a garantire che il patrimonio rimanesse sempre in seno alla Chiesa e fosse appunto intoccabile. Uno potrebbe poi ragionare in termini marxisti sul concetto di proprietà e quindi dire bene, nelle parole di Bergoglio, vi è la legittimazione di una contestazione dell'ordine globale, quello in cui l'1% ha più del 99% dell'umanità, quello in cui la simmetria tra i primi e gli ultimi diventa sempre più insostenibile. Ma come sempre accade nulla di tutto questo in Bergoglio. In Bergoglio non c'è mai una critica del capitalismo come modo della produzione, non c'è mai una critica degli padroni dell'umanità, come li chiama Noam Chomsky, dei globocrati cinici del capitale. No, è un discorso tutto proiettato verso il basso, in una sorta di lotta costante verso il basso. Dire che la proprietà non è intoccabile non vuol dire proletari di tutti i paesi, unitevi e lottate contro gli sfruttatori, come invece diceva giustamente Carlo Marx. No, in Bergoglio ha ben altro senso tutto questo. Significa dire, voi che state in basso, non pensate che ci sia qualcosa di intoccabile, non pensate che quel poco che avete sia intoccabile, non pensate assolutamente che se avete una casa o qualcosa di proprietà che vi siete faticati col sudore vi sia dovuto e sia intoccabile, assolutamente. È una guerra di classe dentro la stessa classe, in cui vi tolgono quel poco che avete, chiamando giustizia a ciò perché viene redistribuito ancora più in basso, in una sorta di guerra tra plebeie, quella che si sta scatenando, dove naturalmente prevale, niente affatto, la sacrosanta lotta di classe di Marx del basso contro l'alto, sacrosanta, ripeto, contro la proprietà usurpata dai signori del capitale che vivono di rendita e di usurocrazia bancocratica. Niente affatto. È una lotta di classe tutta all'interno della stessa classe, quella dominata, in cui ci si contrappone tra precari e con contratto più stabile, fra migranti e autoctoni, in cui ci si contendono le briciole, dicendo peraltro che quelle briciole non sono intoccabili, per citare Bergoglio. Questo è il capolavoro del potere, ancora una volta è il Vangelo secondo Soros, non certo il Vangelo secondo Cristo, e ancora una volta Bergoglio fa valere questa sua concezione tutta organica al potere. Del resto è un papa, come abbiamo già più volte richiamato, che è funzionale all'ordine dominante. Nel 2013 viene deposto Ratzinger, un papa che gloriosamente ed eroicamente provò a resistere al mondialismo ateonichilista relativista, venne sostituito da Bergoglio, che era invece funzionale al nuovo ordine mondiale turbo-capitalistico, e infatti le battaglie di Bergoglio sono sempre e solo le battaglie che giovano alla classe dominante, contro la sovranità, contro il populismo, a favore della lotta di classe dentro la stessa classe, quindi dividere per comandare, e naturalmente poi la celebrazione immancabile dell'immigrazione di massa. Se Cristo fosse vivo direbbe fermate immediatamente la deportazione e il traffico di vite umane. Bergoglio invece dice, proprio come un soros qualsiasi, porti aperti e chi prova a fermare l'immigrazione di massa è un criminale. L'immigrato è in realtà la nuova figura, è l'avanguardia del futuro, perché tutti in fondo diventeremo migranti, e quindi bisogna celebrare questa nuova figura che è in qualche modo il paradigma della nuova umanità forgiata dalla classe capitalistica, che ci vuole tutti precari lavorativamente, migranti antropologicamente, privi di legami, sfruttabili senza limiti, circolanti di moto perpetuo ebrauniano nel mercato cosmopolitico senza confini. Ecco, ancora una volta, Bergoglio sta di fatto celebrando l'ordine dominante, ovviamente. E naturalmente tutto questo rientra pieno nella concezione dominante che da questa enciclica emerge. Ripeto, non vi sono riferimenti alla trascendenza e al sacro, o se vi sono, sono talmente tangenziali e periferici da apparire irrilevanti. Questa non è un'enciclica papale, è una sorta di foietton del global capitalismo, un vademecum del capitalista, del cristiano consumista, del cristiano che è cristiano nominalmente, ma che di fatto ormai è un consumatore perfetto, senza coscienza infelice, senza più alcun riferimento a Cristo e al regno dei cieli. Ecco, questo è il senso di questa enciclica a mio giudizio.